E la stretta attualità della cronaca giudiziaria a riportare in primo piano il tema delle trivelle del referendum del prossimo 17 di aprile, le dimissioni del ministro per le attività produttive Federica Guidi a seguito dello scandalo degli arresti e delle intercettazioni relative all'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti per il centro Olieni Lucano di Vigiano e per la realizzazione dell'impianto totale di Tempa Rossa, che ha coinvolto tra gli altri rimprenditore e compagno del ministro Gianluca Gemelli, danno l'opportunità al comitato referendario per il Sì di tornare a chiedere la partecipazione al referendum abrogativo indetto, lo ricordiamo, per decidere se cancellare o meno la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 milie marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Per il comitato che si batte per il no al referendum, l'abrogazione della norma attuale sarebbe una vera e propria mazzata al settore petrolio in Italia, cancellando posti di lavoro e non consentendo investimenti e creazione di nuovi posti, ma per il comitato del Sì gli argomenti della legge di stabilità e dei posti di lavoro non sono sufficienti a rendere vano il referendum, voluto, ricordano, anche dalla regione Abruzzo. Ma che cosa emerge diranno i magistrati, però possiamo già dire quello che il procuratore antimafia ha detto, cioè qui non si parla di associazione mafiosa, non ci sono mafiosi, non ci sono dranchetosi, non ci sono camorristi, c'è un panorama in cui le aziende industriali in prima persona gestiscono smaltimento illegale dei rifiuti, questa mi sembra un'evoluzione grave delle questioni, non si usano più intermediari ma si fa in prima persona, queste lo fanno aziende grandi che si ritengono responsabili e quindi provocando gravi inquinamenti su cui indegherà la magistratura, tanto più possiamo pensare che altre piccole e medie aziende che operano nei mari italiani possano operare senza le garanzie per l'ambiente, grazie a tutti. Grazie a tutti